Ciao a tutti da Alessandro, il fratellino Emanuele e Manfredo, il team del turista volante. Oggi siamo diretti a Castellinanchianti, siamo sulla strada di San Donato in Poggio, strada provinciale 76 e arriveremo tra poco, quindi via la sigla, ci vediamo dopo. Ciao a tutti. 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 Patrik, 18 metri. Charlotte, 21 metri. Charlotte, 21 metri. Colette, 32 metri. Vediamo che è da giù. Ciao a tutti. 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 Adesso siamo a 100 metri, sono sufficienti per vedere Castellina. Adesso vi faccio vedere il panorama che c'è dall'assunto. ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. E.R.E. Siamo arrivati alla fine anche di questo video. Ringraziamo pubblicamente i nostri fan che sono venuti dall'Irlanda del Nord solo per partecipare al nostro contest. Se volete rivedere l'ultimo video, quello su San Casciano in Val di Pesa, cliccate su Manfredo. E noi invece ci vediamo tutti insieme a Castellinanchianti, però voi da terra e noi dal cielo. Ciao!